Simone Raffini, l'autore del gol della vittoria contro la Sanremese, una bella esibizione della formazione Ravennate, un bel gol che è un buon auspicio per l'inizio della stagione. Sì, sono contento soprattutto perché segnare aiuta a segnare. Quello che voglio fare quest'anno è aiutare la squadra nel migliore dei modi con i miei gol, con tutta la mia volontà e tutto. Sono contento perché comunque era una vittoria che volevamo, nonostante comunque i carichi di lavoro ci tenevamo a fare bene, siamo riusciti a portare a casa il risultato e quindi questo è quello che conta. Ci regaliamo una bella vetrina come quella di domenica prossima e andiamo là a giocarci senza paura. È una bella vetrina perché intanto andiamo a giocare contro una squadra di Serie B, una squadra che è stata in A fino all'anno scorso e ha cambiato tanto. Andremo a giocarci le nostre carte. Noi vogliamo andare avanti il più possibile, nessuno ci nega il fatto che possiamo andare, magari chi lo sa, a fare come il Pordenone qualche anno fa. È una partita che vogliamo andare a fare con lo spirito giusto, con voglia perché comunque andare avanti ci può dare convinzione e fiducia per la stagione.